what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questa nuova recensione come avete ben capito dal titolo ragazzi quest'oggi voglio parlarvi del live action del re leone che è uscito nelle sale qui da noi il 21 agosto e che io personalmente parlando sono andata a guardare al cinema esattamente ieri sera non potevo non fare questa recensione ragazzi perché sapete benissimo quanto io sia fan della disney delle cose che solitamente fa la disney adoro la disney da sempre da quando praticamente sono nata e quindi non potevo effettivamente non andare a guardare questo live action anche se vi dirò la sincera verità ci sono andata comunque con un pochettino di remore ragazzi e mi sono detta ci voglio andare con i piedi di piombo perché con questa questione dei live action ragazzi sappiamo che ultimamente hanno rotto abbastanza le balle infatti io solitamente assieme a rodrigo non vado a guardare questi live action al cinema quindi non potevo non andare a guardarlo al cinema perché comunque dal trailer ragazzi prometteva veramente tantissimo parlando in questi termini immaginerete che purtroppo il mio parere riguardo questo live action non è positivo ragazzi ebbene sì sono direi estremamente delusa sono rimasta estremamente delusa dopo aver guardato questo live action e perché continuo a metterlo fra molte virgolette ragazzi perché continuo a mettere questa definizione fra molte virgolette perché effettivamente definirlo live action è definirlo qualcosa che non è perché effettivamente live action non è ragazzi perché il film è insomma completamente in cgi quindi non è un vero e proprio live action di per sé diciamo che è la versione più fisica tra virgolette nel senso più realistica del cartone animato che tutti conosciamo e che tutti quanti abbiamo amato alla follia ragazzi penso che maggior parte di noi ha amato il re leone come cartone animato e io penso che un vero amante del re leone ragazzi non potrà uscire tanto soddisfatto dalla sala io mi sono preparata soltanto diciamo dei punti chiave per non per cercare di non dimenticarmi niente non mi sono preparata alcun discorso perché dico che probabilmente un vero amante del re leone non uscirà soddisfatto dalla sala perché ragazzi ci sono diversi aspetti che effettivamente fanno storcere il naso a chi ha amato profondamente il vero insomma significato la storia del re leone nel cartone animato effettivamente ragazzi e questo live action l'ho trovato estremamente inutile perché allora io metto le mani avanti ragazzi non farò spoiler anche perché vi dirò la sincera verità fare spoiler penso sia praticamente impossibile perché se avete guardato già il re leone cartone animato praticamente vedrete le stesse identiche cose in questo live action smetto di fare virgolette se no sto qua tre ore perché ragazzi perché dico che è inutile e perché dico che è quasi impossibile fare spoiler perché questo live action ragazzi è praticamente una copia sputata del cartone animato ora sicuramente mi direte cosa ti aspettavi di vedere effettivamente ti aspettavi di vedere qualcosa di diverso effettivamente cioè pensandoci ragazzi uno da un live action non è che si può aspettare di vedere chissà poi cosa di diverso perché se è un qualcosa di ispirato a un qualcosa di già esistente ovviamente diciamo che le basi pressoché sono uguali che quindi la storia è pressoché uguale che quindi si sviluppa in maniera pressoché uguale questo sicuramente però vi faccio un piccolo esempio come mi ha fatto pensare anche a Rodrigo ieri sera mentre ne parlavamo abbiamo guardato pochi giorni fa il live action di Dumbo diretto da Tim Burton e diceva Rodrigo giustamente anche in Dumbo la storia fondamentalmente è la stessa solo che hanno cercato di mettere qualcosa in più di comunque affrontare la storia e il suo fine in una maniera un pochettino diversa aggiungendo elementi aggiungendo personaggi aggiungendo cose che nel cartone effettivamente non ci sono per cui penso che sia più ammirevole tra virgolette un tentativo del genere quindi comunque di prendere di estrapolare l'idea di base e comunque di risvilupparla tra virgolette quindi metterci qualcosa di diverso anche se lì magari uno potrebbe dire eh vedi hanno stravolto la storia e che effettivamente ragazzi il pubblico non sarà mai contento questo è poco ma sicuro e io di solito sono la prima a dire no se mi stravolgono sta storia non ne voglio sapere niente però però dopo aver guardato il re leone ieri sera effettivamente riflettendoci ragazzi penso sia più ammirevole il fatto di estrapolare l'idea di base e di metterci comunque qualcosa di diverso qualcosa di tuo qualcosa di creativo ecco più ammirevole quello che fare un live action proprio ricopiato sputato praticamente in tutto e per tutto e non aggiungere niente è difficile spiegare sti concetti ragazzi vi avverto che probabilmente questa recensione durerà un po' perché voglio spulciare tutti gli aspetti è difficile quindi spiegare questo pensiero però penso sia così perché effettivamente ragazzi questo live action è una copia copia precisa precisa in tutto e per tutto del cartone animato per cui non vi aspettate anche se molto probabilmente gran parte del pubblico non vorrebbe vedere cose nuove non vi aspettate di vedere effettivamente elementi che discostano dal cartone originale tranne magari un paio di cosette di cui vi parlerò a fine recensione diciamo in una sezione più spoiler tra virgolette quindi onde evitare di fare spoiler eccetera poi vi avviserò quando insomma ve ne parlerò ecco e quindi già questo ragazzi diciamo che te fa rimanere un attimo però uno dice ah cavolo finalmente hanno fatto una cosa fedele al cartone animato siamo tutti contenti effettivamente no ragazzi no allora il problema di base di questo film è il realismo tra virgolette mettiamolo sempre tra virgolette il problema di base è il realismo per assurdo ragazzi perché perché in questo film ovviamente hanno reso i personaggi realistici come effettivamente dovrebbero essere nel senso che comunque sono animali quindi nonostante siano animali che parlano comunque rimangono animali quindi il realismo ragazzi in questo film è incredibile allora questo diciamolo perché visivamente ragazzi questo film è bellissimo cioè è bellissimo ci sono certi momenti ragazzi certi paesaggi certe inquadrature degli animali cioè è bellissimo da questo punto di vista insomma in questo tanto di cappello perché hanno fatto un lavoro incredibile questo è poco ma sicuro e negarlo sarebbe da stronzi diciamocelo quindi dal punto di vista del realismo è meraviglioso però il problema sta proprio in questo nel senso che essendo gli animali realistici non hanno espressioni ragazzi non hanno espressività cosa che invece nel cartone animato ovviamente si potevano permettere di fare tra virgolette nel senso che nel cartone animato puoi rendere più umano un animale per quanto la forma fisica sia quella di un animale in faccia gli puoi mettere le sopracciglia li puoi far sorridere li puoi far piangere li puoi far assumere atteggiamenti umani che ti fanno rendere conto che stanno provando insomma che gli animali in questione stanno provando emozione cosa che in questo film ragazzi non c'è non esiste non hanno potuto farlo perché effettivamente essendo un live action e stanno insomma rappresentando animali realistici non hanno potuto ovviamente fargli provare emozioni perlomeno dal punto di vista espressivo ragazzi questi animali ovviamente non provano emozioni parlo sempre di espressioni facciali quindi vedi comunque questi animali che sono buttati all'interno appunto delle vicende che conosciamo ma che ragazzi le affrontano affrontano queste situazioni in una maniera totalmente non dico apatica però in una maniera totalmente inespressiva e questo è un problema grandissimo ragazzi perché psicologicamente parlando purtroppo l'essere umano riconosce le emozioni soprattutto dalle espressioni facciali quindi se ci si trova di fronte ad un animale che non per colpa sua perché per natura non prova espressioni non ha espressioni facciali non puoi empatizzare con lui capite che vi voglio dire non puoi empatizzare con la situazione per quanto la situazione magari sia tragica non empatizzi non non provi niente ragazzi è brutto a dirsi perché caspiterina certe situazioni in questo film sono strazianti le conosciamo tutti ma non empatizzi in alcun momento in alcun modo riesci ma non perché uno è stronzo e non vuole empatizzare e non vuole provare emozioni ma perché proprio penso una cosa inconscia ragazzi perché se l'animale non dimostra emozione nemmeno tu puoi provare emozione è semplice è proprio una catena una cosa psicologica che abbiamo noi esseri umani e quindi il problema fondamentale di base di questo film è proprio questo il fatto che essendo un film realistico e rappresentando animali realistici può far avere loro espressioni facciali e quindi di regola le emozioni ragazzi cioè rimangono lì capite questo film mi ha dato ragazzi di un piattume allucinante io penso principalmente per questo motivo qua c'è stata una totale inespressività dall'inizio alla fine problema legato fondamentalmente a questo a questo di cui vi parlavo un attimo fa quindi non è colpa degli animali in sé è colpa del fatto che c'è stata inespressività punto da questo punto di vista e anche ragazzi dal punto di vista del doppiaggio allora io ragazzi non ho guardato il film in lingua originale mi auguro vivamente che in lingua originale il film sia stato doppiato in maniera migliore perché oh mio dio ragazzi non so come dirlo certi punti del doppiaggio in questo film ragazzi sono di un aberrante senza limiti adesso sicuramente mi verrete a dire ma stai esagerando insomma questi sono sempre pareri personali ragazzi però personalmente parlando vi dico che alcuni aspetti di questo doppiaggio ragazzi mi hanno fatto rizzare tutti i peli che ho in corpo ci sono doppiatori importanti questo mi pare ovvio c'è il doppiatore vabbè luca ward che doppiamo fasa quindi vabbè lì insomma nulla da dire anche se vi dirò la sincera verità ragazzi la voce la stessa voce di luca ward mi sembrava veramente troppo esagerata troppo carica cioè secondo me ci sta giocando un sacco sul fatto che lui c'ha la voce figa e quindi secondo me in questo film l'ha caricata fin troppo capite non c'era bisogno è vero che il personaggio che interpreta comunque un personaggio forte è un personaggio di estremo spessore però sinceramente se devo proprio dirla tutta fra vittorio gasman e luca ward nel doppiaggio di mufasa ho preferito effettivamente vittorio gasman sarà ragazzi comunque un'influenza del fatto che uno ha guardato queste cose quando era piccolo quindi magari rimane estremamente attaccato aggrappato a quell'idea che si è fatto di quella cosa e quindi probabilmente anche questo un po' influenza il mio parere però fra i due sicuramente ho preferito la voce di vittorio gasman perché ce l'avevo proprio azzeccata luca ward ha fatto un lavoro eccellente questo poco ma sicuro però mi è sembrato che ha caricato fin troppo questa sua profondità ecco dopodiché la voce di scar è del doppiatore che si chiama massimo popolizio e che sicuramente noi tutti conosceremo ragazzi per aver doppiato voldemort nella saga di harry potter ora sicuramente ha fatto un lavoro egregio ragazzi perché qui comunque si vede quando uno è un doppiatore fra poco capirete perché sto dicendo questo quindi si vede che comunque un doppiatore l'interpretazione è stata buona fatto sta ragazzi che cioè io ripeto vi sto parlando del doppiaggio collegato al concetto dell'inespressività perché ho trovato inespressività anche nel doppiaggio stesso ragazzi anche certi momenti della voce di scar ragazzi non mi hanno convinta per niente perché non ho trovato la stessa interpretazione che c'è stata invece nel cartone animato quando per esempio ragazzi faccio un esempio stupido quando per esempio scar sta per insomma fare quello che deve fare e dice lunga vita al re nel cartone animato ragazzi quella frase racchiude tutta la malignità la cattiveria di questo personaggio tutta la sua malvagità e tra l'altro viene detto fra i denti viene detto anche tipo sorridendo ragazzi in maniera beffarda quindi nel cartone animato ragazzi quella frase è iconica cioè quando la dice cazzarola ti fa rizzare tutti i peli moci vuole che c'è in corpo in questo live action ragazzi quella frase non mi ha trasmesso una cippa va bene io ripeto per quanto il doppiatore sia bravo per quanto la sua voce sia figa non mi è piaciuto non mi è piaciuto non mi è piaciuto non so perché ragazzi in questo film sono stati così inespressivi anche dal punto di vista vocale non ve lo so dire l'unico doppiatore che mi ha convinto è stato quello di Timon che tra l'altro ho scoperto essere stato Edoardo Leo mi ha convinto un sacco il doppiatore di Timon che ovviamente ragazzi noi rimaniamo sempre aggrappati al grandissimo tonino a colla che comunque rimarrà sempre una voce inarrivabile ineguagliabile però devo dire che Edoardo Leo non ha fatto un lavoro poi così cattivo anzi ha cercato molto probabilmente anche di ispirarsi ovviamente al tono di voce di tonino a colla non copiandolo però si è ispirato e secondo me ci è riuscito davvero molto bene tutte le altre voci devo essere sincera non mi hanno convinta granché non vi so dire il motivo ma adesso arriviamo ragazzi alla nota dolente del doppiaggio oh mio dio allora poi potrete anche linciarmi i fan mi potranno linciare mi potrete lanciare le pietre fate il cavolo che vi pare ragazzi ma Mengoni ed Elisa ragazzi a doppiare Simba e Nala da adulti Dio ce ne scampi ragazzi Accidenti se Dio non ce ne deve scampare per la miseriaccia questo ragazzi è un aspetto che mi fa estremamente estremamente arrabbiare perché ovviamente siccome il mondo deve sempre andare appresso all'america siccome in america hanno fatto doppiare Simba e Nala da due cantanti ovviamente anche il resto del mondo deve fare la stessa cosa siccome siamo dei grandissimi pecoroni allora anche noi abbiamo dovuto fare la stessa cosa affidando accidenti il doppiaggio di Simba e Nala a due cantanti che adesso premessa grande quanto una casa costruitecela sta villa io non metto in dubbio ragazzi la capacità vocale la bravura quello che cavolo vi pare di questi due cantanti non metto in dubbio la loro bravura in quello che fanno ok anche se piccola parentesi devo essere sincera a me Mengoni a me personalmente Mengoni non piace chiusa parentesi però questo è un parere puramente personale ma se dobbiamo essere obiettivi ragazzi perché bisogna essere obiettivi per cui se vi sono piaciuti a voi è un parere vostro ma io penso proprio ragazzi che obiettivamente parlando adesso togliendo il fatto che a me Mengoni non piace e che Elisa non la seguo togliendo questo obiettivamente parlando ragazzi dovete essere obiettivi anche se siete loro fan il loro doppiaggio ragazzi ha fatto veramente cagare dobbiamo essere obiettivi caspiterina il loro doppiaggio ragazzi ha fatto troppo schifo va bene ragazzi cioè vi giuro che ogni qual volta Simba parlava o Nala parlava ragazzi mi sanguinavano le orecchie ve lo giuro allora la canzone che hanno interpretato qual è la canzone adesso non mi ricordo il titolo la famosa canzone che cantano Simba e Nala quando si rincontrano l'hanno interpretata gliela volevano far cantare la volevano far cantare due cantanti perché giusto è una canzone la devono cantare due cantanti ok anche se devo essere sincera anche da questo punto di vista ragazzi non mi è piaciuta non mi è piaciuta manco la canzone perché caspiterina una cosa che è fatta in un certo modo ok la si vuole rivisitare benissimo ma perché ragazzi c'è bisogno per forza di fare tutti quei gorgheggi con la voce per far vedere per far capire che tu sai cantare non c'è bisogno caspiterina infatti pure la canzone ragazzi mi ha fatto cagare mi ha fatto altamente cagare perché la devi rovinare facendo i tuoi gorgheggi con la voce i tuoi vocalizzi strani per far vedere che tu hai la capacità vocale è totalmente inutile a me anzi dà fastidio ragazzi quando un cantante esagera da questo punto di vista per far vedere che lui è capace un cantante secondo me che è un cantante che è un bravo cantante non ha bisogno di fare questo per dimostrare che sa cantare una cosa che invece a me personalmente dà anche fastidio infatti per questo motivo la canzone mi ha fatto cagare perché l'hanno rivisitata e hanno fatto insomma dei vocalizzi strani in certi momenti che secondo me l'hanno totalmente rovinata parere personale chiusa sta parentesi della canzone volevano fargliela cantare i cantanti giustissimo volevano farla cantare a Mengoni e Elisa va benissimo per quanto a me non li seguo insomma non li seguo per quanto a me non mi piace benissimo ma cazzarola cioè Simba e Nala capito non due personaggini del cavolo che si vedono poco nel film una comparsa uno dice vabbè gli faccio fare una comparsata caspiterina gli hanno affidato i due protagonisti ragazzi la voce dei protagonisti accidenti del live action a rovinarli così cazzarola miseria ragazzi vi giuro che mi hanno sanguinato le orecchie tutto il tempo accidenti e cioè dal punto di vista del doppiaggio ragazzi è stato terribile la maggior parte del tempo questo film mi ha delusa anche dal punto di vista del doppiaggio soprattutto per questo motivo accidenti non li si poteva sentire parlare ragazzi vi giuro che mi facevano male le orecchie il cuore non si possono sentire è stata una delusione perché perché io sostengo da sempre ragazzi che gli italiani dal punto di vista vocale interpretativo secondo me sono i doppiatori fra i doppiatori migliori del mondo quindi sicuramente tra le nostre schiere di doppiatori abbiamo i doppiatori migliori del mondo i migliori interpreti qua non si tratta ragazzi di avere una bella voce perché il non è tanto vero una bella voce e anche quello ma è saperla usare per interpretare e quella è la cosa importante abbiamo fra i migliori doppiatori del mondo sicuramente interpreti del mondo e mi affidano le voci di simba e nala a due cantanti che per carità ripeto non metto in dubbio la loro capacità vocale il fatto che sono bravi a cantare eccetera ma non sono interpreti non sono attori non sono doppiatori non sanno interpretare quello che dicono sapranno interpretare quello che cantano ma non quello che dicono accidenti cioè questa è stata una scelta così sbagliata ragazzi già questo cioè mi ha fatto scadere per metà il film accidenti c'è gente che studia anni teatro doppiaggio interpretazione per saper fare bene questo e poi mi affidano a due cantanti che quando parlano per l'amore di dio ragazzi si capisce tale e quale che stanno leggendo un copione no no inaccettabile va bene inaccettabile ok oh parentesi doppiaggio chiusa e avrete capito che sicuramente questa è una delle cose più mi ha fatto incazzare ragazzi di questo live action perché per me è inaccettabile una cosa del genere passiamo a parlare un attimo dei vari personaggi perché ha perso tantissimo ragazzi questa storia in questo film non vi so spiegare proprio profondamente il motivo ma molti cioè alcuni personaggi per esempio hanno perso un pochettino di dispessore in questo film ma sicuramente i personaggi più apprezzati ragazzi del live action sono timonne e pumba perché anche perché in sala la sala era piena nonostante fosse l'ultimo spettacolo tutti quanti ragazzi si rideva quando c'erano timonne e pumba quindi questo significa che i personaggi hanno funzionato bene sono stati bravi a farli funzionare bene come funzionavano bene nel cartone animato però per esempio un personaggio come Rafiki me l'hanno fatto ragazzi praticamente scomparire totalmente scomparire in questo film nel senso che è vero che anche nel cartone animato non è che un personaggio che è costantemente presente però si capiva ragazzi che era un personaggio di estremo spessore di estrema importanza per la storia ma più che altro anche per insomma per la famiglia tra virgolette di Simba di Mufasa eccetera eccetera cioè era un elemento importante all'interno di questa comunità chiamiamola così di questa realtà ecco mentre in questo film ragazzi non significa niente questo personaggio capite cioè all'inizio si si vede quando presenta Simba insomma e poi nel resto del film ragazzi totalmente assente nel senso che non gli hanno fatto avere un minimo spessore di personalità ritorneremo su questo nella parte spoiler ragazzi perché non vorrei che magari uno mi dice oh io il re leone non l'avevo proprio visto a me sta spoiler a tutto per cui riparleremo di questo verso la fine del video dopodiché come vi dicevo inizio ci sono stati dei momenti nella trama che hanno aggiunto che magari potevano anche avere un certo senso e di questo ne riparleremo fra poco e quindi ragazzi dal punto di vista visivo è bellissimo dal punto di vista delle musiche siamo sinceri molto insomma da molti punti di vista molto simili ovviamente a quelle del cartone animato richiamano proprio i motivi che conosciamo insomma da anni quelli presenti nel cartone animato realizzate bene questo sicuramente ragazzi la canzone iniziale ovviamente non è che è stata interpretata di nuovo da Ivana Spagna è stata interpretata da una cantante da una cantante americana se non sbaglio afroamericana quindi che è interpretato tra l'altro in italiano si sentiva che comunque non era italiana la canzone il cerchio della vita quindi molto bella dal punto di vista delle musiche ragazzi praticamente quasi nulla da dire nulla da recepire perché effettivamente molte ne richiamavano insomma il cartone che conosciamo e le altre insomma se c'è stato qualcosa in aggiunta comunque è stato realizzato bene e per il resto però ragazzi per il resto insomma per i motivi che vi ho elencato è stata una grande delusione una grande delusione soprattutto perché ragazzi visti tutti questi motivi e visto che comunque al film originale non hanno apportato praticamente nulla che quindi praticamente è stata soltanto una copia è questo che è stato praticamente una copia sputata del cartone originale io in questo live action non vedo la minima utilità ragazzi non ha la minima utilità come penso più o meno tutti i live action che stanno facendo adesso stanno sfornando così a profusione effettivamente se ci si riflette ragazzi questi live action come questo qua del re leone non ha la minima utilità perché non apportano nulla di nuovo dal punto di vista delle emozioni non arricchiscono non c'è nulla di utile in questi live action e il re leone live action secondo me è un film totalmente inutile cioè tanto vale riguardarsi il cartone animato attraverso il quale si provano molte più emozioni questo sicuramente è l'unica utilità ovviamente ragazzi sta dal punto di vista economico è l'unica cosa ed è tristissima come cosa tristissima ragazzi perché ovviamente sfruttano questi grandi titoli che hanno avuto un enorme successo ragazzi in passato per smuovere ovviamente la nostalgia di quelli tipo della mia età anche di quelli un pochettino più grandi quindi per smuovere questa nostalgia all'interno dei nostri cuori e far sì che andiamo a pagare il biglietto al cinema per guardarlo punto non c'è altro dietro questi live action ragazzi se non un misero riscontro economico guadagno economico è l'unica cosa ed è triste è triste perché al giorno d'oggi ragazzi si riduce tutto a questo e quindi sapendo questo e avendo visto il film vi posso dire che non vale la pena non vale la pena visivamente probabilmente sì vale la pena perché è bellissimo da vedere gli animali sono fatti magistralmente sembrano veri in certi momenti ma non vale la pena secondo me ragazzi spendere i soldi per andare al cinema vi dirò la sincera verità proprio lo dico così lo dico così non dico che gli voglio fare una cattiva pubblicità ma vi sto esponendo il mio parere da amante del re leone da amante della disney dicendovi che è stata un'estrema delusione e rendersi conto che sono cose fatte soltanto per avere ovviamente ci sta ci può pure stare però fate cose nuove per guadagnare soldi accidenti quindi vabbè ragazzi questo era il mio parere io adesso voglio entrare un attimo nella sezione spoiler per cui se non aveste mai guardato il film e avete intenzione di andare a guardare questo al cinema il film intendo il cartone animato quindi non conosce da nulla era la storia da questo momento in avanti ragazzi mi invito a chiudere il video e insomma ci vediamo prossimamente sezione spoiler allora ragazzi come vi dicevo ci sono un paio di cose che hanno aggiunto nella trama tipo per esempio un momento ragazzi che è stato inserito che non era presente nel cartone animato che però aveva senso che ci fosse cioè sarebbe a dire quando nel cartone animato ragazzi Nala ritrova Simba e gli dice sono fuggita sono scappata per andare a cercare aiuto nel cartone questo non si vede nel senso che si vede direttamente Nala che rincontra Simba lì dove si trova nel live action questo lo hanno voluto inserire e poteva avere un senso perché ovviamente fanno vedere Nala che cerca un modo insomma per fuggire dalla rupe dei re comunque è fatto bene anche il momento perché comunque crea abbastanza ansietta diciamo e questo probabilmente serviva a confermare ulteriormente quanto Scar comunque non fosse un re magnanimo e comprensivo ma fosse un tiranno che comunque voleva tenere sotto controllo le leonesse quindi non permettere loro di fare ciò che volessero quindi ci poteva stare questo ci poteva stare dopodiché un'altra cosa non mi è piaciuta ragazzi allora nel cartone animato si vede Simba quando parla con Timon e Pumba degli astri nel cielo delle stelle lui dice grandi re del passato e Pumba e Timon lo prendono in giro e lui va via e quindi rimane un attimo da solo c'è quel momento in cui lui si praticamente accascia diciamo al suolo tipo un pochettino abbandonato comunque al pensiero insomma al pensiero triste di suo padre e quindi in quel momento c'è sapete ci sono tipo quei pollini quelle robe che trasportano tipo il suo odore che giunge alla fine fino a Rafiki quindi avete capito di che scena sto parlando in questo film non ho tanto capito perché l'hanno voluto fare come l'hanno fatto nel senso che appunto nel momento in cui Simba si allontana Timon e Pumba scuote un po' la testa insomma sapete i movimenti che fanno di solito i felini con la testa e gli si stacca tipo un ciuffo di peli dalla criniera e quindi questo ciuffo di peli comincia a volare quindi vabbè il concetto era più o meno lo stesso trasportato dal vento e fa ragazzi è un momento veramente lungo cioè dura sta cosa di sto pelo che vola insomma verso le terre del branco dura dura secondo me dura troppo ci sono stati troppo appresso insomma sta cosa che tra l'altro alla fine sto pelo viene pure mangiato da una giraffe quindi si vede che alla fine ci sta sto scarabbeo stercolario che trasporta sta palla di merda che alla fine si rompe al dentro ci stava il pelo cioè che schifo potevano pure risparmiarselo questo cioè tutto quell'aspetto poetico ragazzi di questi polini che trasportano l'odore di Simba fino a Rafiki è stato ridotto ad una palla di merda cioè praticamente ad un pelo trasportato alla fine da uno scarabbeo stercolario all'interno di una palla di merda che quindi quando si rompe rilascia di nuovo sto pelo che poi giunge in altri modi non vi sto a dire nel dettaglio ragazzi fino a Rafiki cioè è una cosa pesante capite è una cosa troppo lunga secondo me sono stati troppo appresso a sto pelo cioè sono stati a cervellare troppo cioè volevano rendere realisticamente il fatto che sto pelo potesse arrivare fino a lì ma rendilo un po' più poetico cazzarola comunque stiamo parlando di una cosa che realistica non può essere perché ci sono animali che parlano accidenti per cui per quanto tu voglia farlo realistico ma mettici qualche elemento un po' più poetico questo potevano lasciarlo come nel cartone secondo me si sono sprecati troppo a tutta questa idea di come fa arrivare sto pelo fino a Rafiki che tra l'altro ragazzi ritornando all'argomento dell'inespressività Rafiki quando trova sto pelo e si accorge che è di Simba nel cartone animato ragazzi in quel momento Rafiki dimostra un entusiasmo una gioia immensa quando dice è vivo è vivo Simba è vivo e dimostra tutto questo entusiasmo va correndo verso insomma il ritratto che gli aveva fatto tra virgolette e dice è giunto il momento cioè era di una felicità ragazzi Rafiki in quel momento nel cartone trasmette un entusiasmo e una felicità unici c'è sto film non usa il pelo ah Simba è vivo fa il dipinto c'è un'inespressività ragazzi un piattume che per l'amore del cielo che fine ha fatto quell'entusiasmo accidenti pure sto momento ragazzi di un'inespressività assoluta non gli puoi fare avere espressioni facciali ok fagli provare entusiasmo in qualche altro modo accidenti qualcosa che dice cioè Rafiki è stato reso un coglione va bene totalmente un coglione in questo film diciamocelo così che fanno vedere che comunque pure una scimmia vecchia cioè di una certa età però pure nel cartone lo era ma l'hanno reso troppo figo nel cartone come personaggio in questo personaggio in questo film ragazzi in questo live action l'hanno reso un coglione questo dopodiché parlando di altre cose che non mi sono andate giù parlando un attimo delle canzoni ragazzi allora voglio diventare presto un re ragazzi nel cartone animato è di una gioia è di una gioia di un entusiasmo anche quella canzone che non hanno saputo rendere in questo live action io ripeto ovvio essendo un film che vuole essere più realistico non hanno potuto mettere certi elementi che c'erano nel cartone animato tipo per esempio nel cartone ragazzi c'è un certo momento in cui gli animali formano una torre di animali cioè giraffe sopra elefanti struzzi insomma tutto questo ovviamente in un live action che vuole essere realistico non lo potevano fare però ha perso ha perso anche sta canzone che per carità magari è stata interpretata anche bene dal ragazzino che l'avrà cantata però ha perso ha perso non ha avuto quello stesso entusiasmo che invece aveva nel cartone dopodiché parliamo ragazzi della canzone di Scar che Scar canta nel cartone animato quando arriva nel covo delle iene cioè ragazzi quella canzone nel cartone animato è di un'epicità assoluta va bene cioè te fa rizza tutti i peli insomma nel cartone ragazzi ci sono tantissime cose è tutto il cartone te fa rizza tutti i peli che c'è in corpo quella canzone di un'epicità assoluta nel cartone animato ragazzi nel live action non gliel'hanno fatta cantare non gliel'hanno fatta cantare l'hanno proprio c'è tipo scagata totalmente perché lui usa le frasi che effettivamente sono della canzone ma gliel'hanno fatta tipo fare a discorso c'è tipo un discorso mezzo cantato mezzo no ma che non ha nulla della canzone capite ragazzi allora io posso capire nel cartone ci sono le iene che marciano tipo soldati non vuoi fa quello ma cazzarola la canzone di Scar ragazzi racchiude tutta la sua malvagità racchiude il suo piano malvagio e c'è l'apoteosi della malvagità quella canzone lì e dell'epicità in questo live action ragazzi l'hanno praticamente eliminata e hanno fatto fare un discorso con le stesse frasi ma un discorso ma che cazzo state a fa' che cazzo me fate perché accidenti eliminare quella canzone non capisco poi altro momento vogliamo parlare di nuovo di inespressività parliamo del momento della morte di Mufasa ragazzi che è stato sicuramente uno dei momenti più traumatici dell'infanzia di tutti noi questo è poco ma sicuro uno dei momenti più strazianti più tristi della storia dei cartoni animati che abbiamo guardato da piccoli è la morte di Mufasa in questo live action ragazzi se vedevo essere sincera non mi ha trasmesso praticamente quasi nulla perché ritorniamo alla motivazione dell'inespressività ragazzi allora c'è il momento in cui Mufasa si arrampica su questa insomma parete rocciosa e quando arriva su insomma c'è Scar che lo guarda ragazzi nel cartone animato oppure quel momento è epico è praticamente epico cioè cioè perché perché nel cartone Scar lo guarda lo afferra ragazzi con gli artigli quindi gli infila gli artigli nelle zampe e gli sussurra nell'orecchio lunga vita a re ragazzi comunque oddio ma se stanno a rissepele sono a pensarci e lo getta via cioè c'è quel fotogramma insomma quel momento in cui si vede proprio che lo sralica insomma lo lancia via dalla parete con gli artigli in fuori cioè un momento ragazzi epico quello lì va bene in questo film sì cioè tipo lo afferra un attimo dalle zampe gli dice sto lunga vita a re che per l'amore di dio l'avrebbe detto meglio non lo so un barbono ubriaco probabilmente l'avrebbe reso meglio e cioè non lo non lo lancia via come si vede nel cartone gli ha tipo due zampate sulla faccia per farlo scivolare e in più nel cartone ovviamente ragazzi c'è quel momento in cui Scar gli sussurra questa frase in cui c'è lo sguardo di Mufasa ragazzi che dice tutto cioè uno sguardo così realistico cioè non ci vuole nonostante sia il cartone ragazzi è stato reso così bene quel momento di terrore quell'attimo di terrore in cui si rende conto che il fratello lo sta uccidendo lo sta per uccidere accidenti il terrore di quello sguardo ragazzi è così realistico e questo ovviamente nel live action non ci è potuto essere non ci è potuto essere perché per quanto tu magari gli inquadri gli occhi non ha un'espressione e quindi non ti trasmette niente ritorniamo sempre allo stesso punto ragazzi quindi anche il momento della morte di Mufasa ha significato poco e niente cioè è stato ha trasmesso poco e niente personalmente parlando ragazzi e sapete quanto io sia dalla lacrima facile accidenti quindi tante cose tante cose aspettate mi stavo a scordare ragazzi allora Rafiki perché gli hanno tolto tutta sta importanza Rafiki nel cartone animato è fondamentale ad un certo momento per la storia perché quando si rende conto che Simba è vivo lo va a cercare ok lo raggiunge lo trova e quindi lo vede insomma lì abbattuto dopo che ha discusso con Nala dice ma tu non sai più chi sei no eccetera insomma il ruolo di Rafiki è quello di farlo rinsavire di fargli rendere conto che effettivamente Mufasa non è mai morto perché vive dentro di lui quindi quel momento importantissimo ma è importantissimo ragazzi il momento in cui Simba parla con Rafiki e Rafiki gli tira una bastonata in testa e gli dice eh oh ma fa male no e dice eh sì il passato può fare male ma dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa gli ritira la bastonata e Simba lo evita e quello è il momento ragazzi in cui Simba davvero si rende conto che lui è il legittimo re che quindi deve tornare alla rupe dei re cioè il ruolo di Rafiki in quel momento è fondamentale e questo momento ragazzi questo momento di questo scambio di battute di questo discorso così importante così semplice ma così profondo non è stato omesso non c'è in questo live action c'è il momento in cui lo porta sia la pozza in quell'acqua insomma quel laghetto dove Simba si vede riflesso vede riflesso di Mufasa e poi in cui parla non è stato inserito quel momento là che secondo me è un momento importantissimo ed è molto emozionante nel cartone animato perché dice ma tu guarda sta cazzo di scimmia che gli sta a fare questo discorso bellissimo non l'hanno messo ragazzi cioè quante altre cazzo di cose vedevo di su sto film per farvi capire che è stata un'immensa delusione pure questo ragazzi pure questo manco quel discorso ci hanno messo io penso che gli unici personaggi decenti validi di questo film sono Timon e Pumba ripeto perché li hanno resi molto bene ci sono momenti comunque comici che fanno ridere effettivamente sono simpatici simpatici davvero e quindi penso che gli unici elementi decenti siano Timon e Pumba ragazzi perché tutto il resto togliendo il lato visivo togliendo il lato musicale parlando di trama di profondità di espressività di emozioni ragazzi tabula rasa tabula rasa è stata una delusione totale da tantissimi punti di vista forse dal 95% dei punti di vista è stata una delusione totale è un film mi ripeto secondo me totalmente inutile che non merita i soldi del biglietto al cinema quindi ragazzi mi dispiace di essermi dilungata così tanto ma secondo me meritava ragazzi questa recensione meritava insomma che si dicesse tutto perché volevo esprimere a fondo e totalmente il mio estremo disappunto e la mia estrema delusione al riguardo per cui ragazzi se lo siete già andati a vedere fatemi sapere il vostro parere accidenti ovviamente anche pareri che sono contrastanti col mio sono bene accetti fin quando ovviamente rimaniamo ragazzi nella parentesi del rispetto mi raccomando quindi che dire che ho deciso ragazzi Rodrigo abbiamo deciso di non andare più a vedere live action i cartoni animati Disney al cinema perché è soltanto una mera trovata commerciale non c'è nient'altro dietro e questa cosa a me fa male ragazzi perché per quanto io quanto io amo questi cartoni animati me fa male quindi questa recensione termina qui grazie a tutti un bacione e un bacio a tutti ragazzi ciao ciao